Sarà tutto chiuso come è stato per Pasqua e Pasquetta. Aperte sono farmacie, parafarmacie e rivenditi in giornale. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, annuncia così una nuova serrata generale per il prossimo sabato. Come per Pasqua e Pasquetta, dunque anche per la festa della liberazione, tutte le attività commerciali resteranno chiuse come stabilito dal primo cittadino. Chiusi dunque tutti i supermercati e gli altri negozi rimasti aperti sino ad oggi, tra questi anche i tabacchi. Permessi accordati invece solamente per farmacie, parafarmacie ed edicole. Salterà dunque così anche il tradizionale mercato del Giotto, dove ovviamente sino ad oggi sono rimasti aperti solamente i banchi alimentari. Il mercato del sabato, che sarà il giorno 25, 25 aprile, rientriamo in un sistema di chiusure complessivo. Quindi il mercato, il sabato 25, non ci sarà. L'obbligo dunque è sempre quello di restare a casa e per l'occasione saranno anche intensificati i controlli. Il tutto sarà poi replicato anche per il ponte del primo maggio. L'obbligo dunque è sempre quello di restare a casa e per l'occasione saranno anche per l'occasione. Grazie. Grazie.